Buonasera e bentornati a War Room. Mentre in questo momento il Papa sta pregando per la pace al Colosseo, si potrebbe riaprire la linea di comunicazione da tempo interrotta tra Mosca e Washington. Già l'11 ottobre scorso il Cremlino aveva aperto ad un incontro, un possibile incontro tra Putin e Biden. Poi domenica il ministro della difesa russo ha sentito in una serie di telefonate i suoi omologhi di Francia, Turchia, Regno Unito e anche il suo omologo statunitense Lloyd Austin. La motivazione delle chiamate era il peggioramento della situazione in Ucraina e la preoccupazione è che Kiev possa usare una bomba sporca, cioè contenente materiale radioattivo, un'ipotesi smentita da Zelensky. Comunque sia sta di fatto che la Russia ha dato l'impressione di essere davvero disposta ad aprire il dialogo, almeno questa era l'impressione che ha dato che voleva dare. In tutto questo a Roma però non è arrivata nessuna telefonata, nemmeno un sms, un po' perché il nostro appeso militare non ci riserva tradizionalmente un posto di fascia alta e un po' perché a Roma il governo era nella sua fase di genesi. La Presidente del Consiglio tra l'altro deve tenere a bada le intemperanze di Berlusconi che lancia messaggi dolci a Putin e deve ignorare le parole del neopresidente della Camera, il leghista Fontana che critica le sanzioni nel solco delle note tendenze filorusse di Salvini. Lo ha fatto anche nel suo discorso di oggi alla Camera per la fiducia, pronunciando parole che a molti sono parse inequivocabili. Ma se si dovesse aprire un dialogo o addirittura un negoziato, quale potrebbe essere il ruolo dell'Italia e del governo Meloni in particolare? Quale sarebbe la posizione da tenere, tenendo contemporaneamente conto di due scenari, quello interno e quello internazionale? Come verrebbe declinata la riaffermata fedeltà euroatlantica? Di questo parliamo oggi con i nostri graditi ospiti che ringrazio di aver accettato il nostro invito e che vi vado subito a presentare. Sono Andrea Bonanni, editorialista di Repubblica, Emma Bonino, leader di Pio Europa, già ministro di Affari Esteri, bentornata, ciao, e Enzo Moavero Milanesi, professore di diritto dell'Unione Europea sia alla LUIS che a Bruges e già ministro degli affari esteri. Bentornato anche a te, Enzo. Allora, Bonanni, partiamo prima dallo scenario di guerra per poi parlare dell'Italia. Questa ipotesi di un faccia a faccia Putin-Biden è una butade, un blef o lo spiraglio è vero ed è ancora aperto tuttora. Guarda, se lo sapessi sarei o alla Casa Bianca o al Cremlino. Però sarei cauto. Secondo me in questa fase tutti questi messaggi, ne abbiamo già visti in passato, apparentemente distensivi di apertura eccetera, rispondono credo più a magari movimenti, equilibri interni alle dinamiche del Cremlino che ha dei fatti reali. Non mi farei troppe illusioni e soprattutto eviterei l'errore di gettarsi a corpo morto in una rincorsa a colloqui di pace finché non ci sono segnali concreti che questi siano veramente nelle intenzioni di Putin. Ecco, ma Enzo Moavero, al di là del fatto che appunto sia necessaria la cautela, in senso generale, quali sono le condizioni per sedersi a un tavolo con Putin? Macron dice che l'unica pace possibile sarà quella che decideranno gli ucraini. E' molto difficile sedersi a un tavolo di negoziati, negoziati diciamo con prospettiva in una situazione come questa della guerra che incomincia con l'aggressione russa all'Ucraina. è molto difficile perché questa è una guerra dai connotati pesanti, dai connotati delle guerre pesanti che teoricamente negli obiettivi dei due nemici o dei nemici plurimi dovrebbero terminare con la sconfitta dell'altro. Quindi è molto difficile. Ci si è già seduti nel senso fisico e letterale del termine a dei tavoli di trattativa, lo abbiamo visto in quella prima fase della guerra in cui appariva stridente il contrasto tra il tentativo di un tavolo e gli scontri sul terreno. Macron si era anche seduto in quel famoso tavolone, che è poi diventato iconico anche nella comunicazione mediatica. Quindi tentare bisogna sempre tentare, avere un quadro negoziale bisogna cercare di pensarci con varianti e alternative. La pace inevitabilmente resta l'obiettivo di ogni persona di buon senso, ma nella situazione attuale è molto difficile mettere insieme i tasselli di un possibile negoziato. Chi cede cosa a chi? E questo è l'interrogativo micidiale di fronte al quale ci si blocca inevitabilmente. Emma Bonino, qualcuno dice per esempio, lo scriveva Mario Giro su domani, che tutto sommato si può negoziare e nello stesso tempo rimanere schierati secondo l'analisi che è stata la Russia ad aggredire e che gli ucraini hanno subito l'aggressione. E' possibile fare questo e nello stesso tempo negoziare? Si possono schiacciare i due pedali? Beh, c'è anche un precedente storico, cioè alla Seconda Guerra Mondiale c'era chi negoziava a guerra completamente aperta, come ricorderete sulla nave, eccetera, eccetera. Io sono molto d'accordo con Bonanni e Enzo, nel senso che io penso che la diplomazia deve continuare, tentare, fare, dire, ripetere, eccetera, eccetera. Ma sul terreno mi sembra che le cose A non stanno andando benissimo per i russi. Non so se è una ritirata tattica o effettivamente simbolo di una difficoltà russa a tenere. Quindi soluzioni miracolose io non ne vedo. Io so che dobbiamo continuare a sostenere gli ucraini e che la diplomazia deve continuare i suoi tentativi finché è possibile. Però tutto è molto grigio, come diceva già Churchill, appunto, parlando della Russia, no? Ricordatemelo voi. È un indovinello chiuso in un non so che ammantato da mistero. E questo è vero perché io cosa abbia in testa appunto sul serio, a parte annettere a Mombassa chiunque, eccetera, eccetera, però non l'ho capita bene perché mi pare abbastanza evidente che per mille ragioni, compreso il fatto che le sanzioni mordono i russi, che se ne dica, che se ne dica. Mi pare tutto molto complicato e come diceva Enzo, bisogna che ci sia in qualche modo un vincitore e un vinto. Bisogna che ci sia. Normalmente è così. È chiaro che si dialoga con gli avversari perché dialogare con gli amici non solo è abbastanza facile, ma è soprattutto inutile. Per cui io penso, seguendo con attenzione, questa cosa che siamo abbastanza in alto mare. Peraltro volevo fare a voi una domanda che io non riesco a capire bene. Che cos'è questa bomba sporca? Ne ho letto di... Tu lo sai, Bonanni, cos'è questa bomba sporca? Eh sì, cosa potrebbe essere una bomba a esplosivo convenzionale che però ha dentro delle parti di plutonio, credo plutonio, insomma di materiale radioattivo per cui oltre al danno dell'esplosione c'è anche un inquinamento radioattivo che non è dovuto a un'esplosione nucleare, così ho capito, correggetemi se sbaglio. Ed è quella che i russi dicono che gli ucraini starebbero usando. Tutto questo, sai, forse è la storia del pastorello e del lupo, però queste improvvise aperture, queste accuse di possibili aggressioni, mi sembrano invece tutte delle, come dire, delle scusazioni non petite, delle mani avanti messe dal gremlino che forse si sta preparando a fare qualcosa. Non vorrei essere un profeta di sventura, spero di sbagliarmi fortemente, ma più che qualcosa di credibile mi sembrano delle mosse tattiche in vista di qualcosa che sta nella mente di Putin. Oppure Enzo potrebbe essere viceversa, che al gremlino si sentono davvero in difficoltà, che effettivamente c'è un arretramento sul piano militare e quindi stanno tentando di creare una condizione, una narrativa della vicenda mettendola su un altro piano. Quale delle due ipotesi tu accrediti di più? La furbizia o la necessità? Ma francamente in una guerra come questa sia la furbizia che la necessità hanno il loro spazio e hanno inevitabilmente il loro ruolo, accanto purtroppo a tutte le altre atrocità che vediamo, perché anche quel concetto di bomba sporca che è stato ben spiegato non deve lasciare pensare che ci siano bombe pulite, insomma le bombe sono orribili, sporche, pulite, atomiche o non atomiche. È un modo per dire una specie di succedaneo della bomba nucleare. Sì, sì, no, per carità, però a volte ci si perde un po' in queste nozioni pseudotecniche illudendosi che la guerra sia meno orribile di quello che è. La verità è che noi abbiamo avuto, dopo la seconda guerra mondiale, una serie di situazioni di guerra, lo sappiamo perfettamente, ma mai o comunque solamente in alcuni casi c'era stato un coinvolgimento di questo tipo. Possiamo considerare a seconda dei punti di vista la guerra nel Vietnam come indubbiamente una guerra che coinvolgeva direttamente gli Stati Uniti d'America, superpotenza nucleare. Chi la può considerare una guerra anche quella con elementi di aggressione o comunque di attacco a un paese che voleva, una nazione che voleva raggiungere la sua libertà, un popolo voleva raggiungere la sua libertà. Abbiamo avuto naturalmente la guerra in Afghanistan, ci sono stati tanti interventi per procura, però qui siamo di fronte a qualcosa di, secondo me, molto più profondamente drammatico e divisivo. Se si guarda la storia, Russia e Ucraina hanno gran parte dei secoli convissuti all'interno di uno stesso insieme con denominazioni naturalmente diverse, ma hanno anche delle divisioni profonde. Ciò che è accaduto durante il periodo di repressione dei cosiddetti kulaki ancora nel periodo immediatamente successivo alla rivoluzione d'ottobre e quanto avvenuto soprattutto negli anni 30 nella Russia staliniana con la carestia pilotata in Ucraina hanno creato delle divisioni tremende. Quindi siamo in una guerra sì fra stati, ma è nello stesso tempo a caratteri che la avvicinano a una guerra civile. E noi sappiamo che le guerre civile sono ancora più difficili da ricomporre, perché richiedono degli esami di coscienza, dei lavacri diciamo molto più profondi e di conseguenza è molto difficile individuare dall'iniziativa dei contendenti un vero forso sincero verso la pace, salvo quello che vedrebbe o l'uno o l'altro nel ruolo del vincitore. Ci vorrebbero i mediatori, una delle difficoltà sulla quale forse è bene anche soffermarsi e che i mediatori scarseggiano. Ci provò Macron nella duplice veste di uno Stato importante, membro permanente delle Nazioni Unite, membro del club nucleare, presidente in quel momento pro-tempo dell'Unione Europea. Ci ha provato varie volte con qualche micro risultato il presidente Erdogan della Turchia. Abbiamo questo silenzio in parte equidistante, in parte mi auguro molto preoccupato di grandi realtà come India-Cina. Ecco, se tutto questo si muovesse insieme nello stesso momento con un piano un po' più strutturato e dei capisaldi, si potrebbe quantomeno arrivare a un cessate il fuoco che poi potrebbe portare a un armistizio e hai visto mai, anche se l'armistizio tra le due Coree dura oramai da un tempo incredibile, potrebbe portare verso una pace. Ma immaginare di saltare subito al negoziato effettivo di pace mi sembra un po' complicato. Emma Bonino, il mediatore evocato da Moavero può essere il Papa? Macron gli ha chiesto ieri di fare una telefonata a Putin. Oggi il Papa però si sta esprimendo, certo, il suo magistero è di altro tipo, ma, insomma, supplico i governanti, i governanti si inchinino ad ascoltare il grido di pace, il momento è drammatico, la pace in Europa è calpestata, però non c'è, diciamo, né una iniziativa né una valutazione del perché siamo a questo punto. È normale o no? E gli dà questo rimanere in una zona grigia, gli dà uno spazio in più per fare il mediatore? Ma io penso che, diciamo, i mediatori, come ne hai nominati tu, siano a questo punto molto prudenti. Mi sembra che però ci sia un lavoro diplomatico in corso per vedere se ci sono davvero spiragli o meno. Peraltro, l'altro protagonista che consideriamo sempre poco è Erdogan. Ora, io non so bene quali siano i rapporti, o meno l'ho visto, quali sono i rapporti Erdogan-Putin, questo mi pare abbastanza evidente, ma non so se ultimamente Erdogan abbia buttato la spugna e si sia tirato indietro della serie ad impossibilia Nemo Tenetor. ma certamente io non vedo la pace, tra virgolette, a portata di mano. Mi sembra che le tensioni sono ancora tali e tante che probabilmente qualcuno pensa a una vittoria di tipo militare. Nel frattempo c'è stata l'annessione delle province del Donbass con questo fake referendum alla Russia. Non ho capito quale sarebbe in testa di qualcuno il destino della Crimea, francamente, che rimane un grande test a cui la comunità internazionale non ha reagito. E forse è a partire proprio da questa debolezza di non reazione della Crimea eccetera che ha dato l'illusione a Putin di una passeggiata di una settimana. In effetti può essere trovato di fronte invece ad una resistenza che probabilmente non aveva calcolata. Ma sul Papa Emma tu che cosa pensi? Può avere un ruolo o no? Ma secondo me può darsi ma prima credo ci sia tutto un lavoro diplomatico in corso per non esporre il Papa evidentemente in una situazione impossibile. Bonanni veniamo in questa seconda parte a ragionare sul ruolo dell'Italia. Intanto partiamo dalle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio fatte stamattina nelle quali una parte è stata dedicata anche ai scenari internazionali. La sua professione di atlantismo secondo te era sufficiente era giusta era corretta insomma che cosa ne che impressione hai avuto di quelle dichiarazioni? corretta sicuramente sì sufficiente le dichiarazioni non sono mai sufficienti l'unica cosa che conta sono i fatti come tu mi sei sto d'accordo se posso fare un piccolo passo indietro perché tu hai cominciato parlando della possibilità di un incontro Putin Biden ecco in questo si inserisce anche la questione del ruolo italiano noi non dobbiamo mai dimenticare che ci sono tre guerre parallele che stiamo vivendo intorno all'Ucraina una è la guerra sul terreno per il controllo del territorio diciamo chi vince chi perde la seconda è una guerra che riguarda la tenuta dei due sistemi contrapposti in questo momento la mia sensazione è che sia più in discussione la tenuta di Putin che quella delle democrazie occidentali però proprio le elezioni italiane con la vittoria di una maggioranza in cui due partiti su tre sono filo Putin e certe divisioni che sono emersi interno all'Unione Europea ci fanno vedere che c'è un problema di tenuta anche dell'Occidente senza stare a pensare alle prossime elezioni di midterm alla possibilità io vorrei dire l'incubo che torni uno come Trump alle prossime elezioni americane cioè c'è la guerra tra la tenuta dei due sistemi poi c'è una terza guerra che è una guerra tutta potenziale e su questo secondo me potrebbe essere molto utile un dialogo tra russi e americani e cioè sul contorno bellico sul rischio di allargamento di questa guerra sull'uso dell'atomica per esempio del nucleare qui il ballon de se russo con il nucleare sporco ma anche sul coinvolgimento diretto indiretto di militari per esempio occidentali su quel fronte abbiamo visto cioè la guerra può assumere tanti aspetti il caso di North Stream ce ne ha dato un esempio ecco se vedo un'utilità in questo momento di una chiamiamola mediazione o comunque di un dialogo potrebbe essere proprio tra russi e americani per definire i contorni di questa guerra che è Roma in tutto questo che ruolo potrebbe avere? Nessuno ma Roma non vedo un grande ruolo di Roma prima un grande ruolo di Roma l'unico ruolo che Roma potrebbe avere di rompente sarebbe di rompere il fronte dell'alleanza occidentale un ruolo negativo diciamo potrebbe essere solo un ruolo estremamente negativo anche quello io in questo momento non lo vedo non lo vedo probabile Bonino secondo te il fatto che ci siano due partiti su tre con simpatie più o meno celate o malcelate o dichiarate di Filoputin nella maggioranza comunque determinanti detentori di Golden Share crea questa possibilità che si fa che l'Italia faccia un passo falso oppure non? Innanzitutto dà l'impressione o la realtà non lo so che l'Italia non è e il governo italiano non è così determinato lo è probabilmente la presidente Meloni però gli altri per una ragione o per l'altra mi sembrano meno determinati meno chiari meno netti e io ho le lettere affettuose e quell'altro mi ha mandato la vodka e poi c'è Salvini eccetera eccetera con le magliette con le magliette io penso che già sarebbe difficile avere un ruolo per mille ragioni ma questa specie di come dire posizioni sfumature così diverse all'interno della maggioranza io non credo che gli altri o i due ci prendano molto sul serio insomma è vero oggi in un'intervista Zelensky dice chiede all'Italia delle armi di difesa aerea cosa dovremmo rispondere a questa sollecitazione anzitutto la risposta dipende anche dallo stato dei nostri arsenali di cui non sono esattamente al corrente e in ogni caso supponendo di avercela sì ma tornando al discorso che si faceva un secondo fa per rispondere a questa domanda in modo preciso l'Italia non difficilmente può avere un ruolo individuale autonomo in queste grandi congiunture internazionali anzi quanto più tese più drammatiche sono quanto più difficile diventa un ruolo italiano ma attenzione non è che la Germania la Gran Bretagna con tutto il suo passato imperiale o presente di sembianza tale la stessa Francia cioè gli stati europei individualmente presi in situazioni globali di grande importanza e gravità non hanno francamente a mio parere più un ruolo non ce l'hanno quando la situazione ha carattere economico e tantomeno ce l'hanno quando la situazione assume carattere militare e bellico l'Unione europea sull'economia se si muovesse con effettiva comunanza di intenti costantemente eccetera potrebbe avere come ha avuto in varie circostanze un ruolo importante il problema è che questa comunanza di intenti spesso viene a mancare anche quando non occorre nemmeno l'unanimità ma bastere per la maggioranza ha dimostrato di averla la Nato che illustrissimi personaggi già nominati nel corso anche di questa nostra riflessione definivano morta fino a non troppo tempo fa ecco è nell'ambito della Nato che l'Italia come gli altri stati che ne fanno parte quindi la stragrande maggioranza degli stati europei devono valutare le forniture d'armi quali tipo d'armi chi dà cosa chi fa cosa se e in che misura l'alleanza atlantica possa anche svolgere un ruolo sotto il profilo della pace individualmente presi io credo francamente spiace dirlo però è una constatazione in cui non immagino spero di non essere completamente isolato ma gli stati europei individualmente di ruolo ne hanno davvero pochissimo per non dire nullo Borani probabilmente la richiesta di armi di difesa aerea di Zelesky era come dire non una richiesta concreta ma una provocazione politica vediamo se il nuovo governo di fronte ad una cosa di questo genere come reagisce dopo di che Zelesky ha anche invitato Meloni ad andare a Kiev potrebbe essere e sarebbe auspicabile che sia il primo viaggio all'estero del nuovo presidente del consiglio o no? sarebbe auspicabile che il primo viaggio all'estero fosse a Bruxelles la commissione europea ma visto che la cosa creerebbe qualche imbarazzo credo a casa Meloni potrebbe essere una buona scappatoia andare a Kiev come primo viaggio all'estero diciamo sì ma per dire cosa? no no certo per dire quello che sta ripetendo da sempre voglio dire le parole non costano niente i fatti costano di più ecco per venire a quello che tu dicevi certo io credo anch'io come Enzo Moavro non so quale sia la nostra disponibilità noi abbiamo sistemi antiaerei che stiamo producendo insieme se non vado errato proprio con i francesi potremmo sicuramente io darli come li hanno appena dati i tedeschi non credo che la richiesta di Zelensky non credo che sia una provocazione credo che sia una richiesta reale perché in questo momento i russi stanno smantellando a colpi di missili il sistema elettrico ucraino e quindi io credo che loro abbiano veramente bisogno di una difesa antiaerea sul piano politico io trovo che se Meloni che si trova appunto si troverebbe in imbarazzo rispetto al suo elettorato a fare come primo viaggio quello a Bruxelles che evidentemente si troverebbe in imbarazzo rispetto al resto del mondo a fare il primo viaggio a Varsavia andasse a Kiev forse troverebbe una soluzione Bonino non è particolarmente convinta dell'utilità della cosa non sarebbe comunque un modo per dire anche ai suoi due alleati che insomma no no simbolicamente è importante non è che quando mi erano andato a Sarajevo non è che abbia risolto la situazione ma fu un segnale molto molto forte all'epoca delle guerre in ex Jugoslavia dove anche lì l'Europa come dire andava avanti a tentorni nel buio chi riconosceva la Croazia da solo dica sulla Germania chi no chi si eccetera però arrivati al punto mi dispiace di ripetermi ma io credo che se continuiamo a non avere una politica estera comune noi conteremo sempre meno ivi compreso Francia e Germania che forse possono fare che ne so degli accordi a due o degli affari a due ma qui stiamo parlando di un'altra a un'altra dimensione però io penso che a Putin piacerebbe molto negoziare stato per stato ovviamente io invece penso che il nostro interesse sarebbe esattamente l'opposto e non puoi neanche avere una politica di difesa se non hai una politica estera perché se mandi i tuoi a Bamako piuttosto che non so Afghanistan ci deve essere qualcuno che prende questa decisione che non può essere lasciata al capo di stato maggiore eventuale Bonani questo che dice Emma può essere anche la giustificazione del ragionamento fatto da Meloni stamattina e cioè io sono atlantista e sono anche europeista nella misura in cui però posso criticare l'Europa allora siccome motivi di critica li avete enunciati lei si sente forte di poterlo fare e poi come dire che sia una giustificazione è un altro paio di mani se fosse un gesuita cosa che non sono direi però ogni tanto direi che c'è critica e critica cioè noi a parte che io sono evidentemente d'accordissimo con quello che ha detto Emma Bonino sulla necessità di una politica estera visto che nessuno dei paesi europei può avere una politica estera in questo momento né riesce ad avere c'è critica e critica all'Europa noi stiamo facendo delle critiche oggettive voglio dire come possiamo criticare delle posizioni prese dall'Italia diciamo da un paese senza che la critica sia una critica che mette in discussione l'assunto stesso dell'Europa invece fino ad ora magari le cose cambieranno le critiche che sono venute da quella parte politica da quel gruppo politico in Parlamento europeo alle posizioni europee sono delle critiche esistenziali cioè voglio non è che dicono tu stai sbagliando questo tu stai sbagliando questo perché tu sei sbagliato e questa è una differenza come direbbero i gesuiti appunto sostanziale vedo che non sei non hai studiato i gesuiti ma auspichi a volte ci azzeccano Moavero in tutto questo il siccome siamo partiti dall'ipotesi che poteva affacciarsi un dialogo diretto Putin Biden le elezioni di midterm negli Stati Uniti che sono ormai prossime che ruolo possono giocare rispetto a questo scenario? Un ruolo notevole perché a seconda di come andranno il presidente che comunque resta in carica sarà più o meno forte nell'appoggio parlamentare bisogna anche vedere nel dopo elezioni le maggioranze parlamentare che si verrà a creare negli Stati Uniti che tipo di orientamento non tanto nelle linee dei massimi sistemi quanto nella capillarità vorrà prendere è evidente che un appuntamento elettorale di questo tipo in una democrazia come gli Stati Uniti d'America e in una congiuntura generale come questa avrà un'influenza notevole io se posso volevo spendere una rapidissima riflessione sulla questione della politica estera europea politica estera europea in realtà sulla carta esisterebbe avrebbe anche i suoi articoli che la regolano eccetera naturalmente è vincolata alla decisione all'unanimità il problema qual è e quantomeno la mia esperienza diretta non ci si prova nemmeno ad arrivare a testare se c'è o non c'è un'unanimità quando si percepisce nel corso di una discussione in generale molto lunga in cui si spendono anche svariate ore che ci sono differenze di punti di vista ma magari anche mezze differenze o sfumature percepibili di differenza di solito non si va nemmeno a provare con un voto se c'è o non c'è l'unanimità prima cosa che per esempio io suggerirei e ho materialmente suggerito in svariate occasioni in concreto al presidente dell'Unione che è l'alto rappresentante di provare quantomeno a fare perché un conto è avere gli e chi ha il tale dissentiva il talaltro ha bloccato l'unanimità tutti si nascondono poi dietro il dito più esposto e in realtà non ci si è neanche provato seconda cosa esiste nel esistono nel trattato attuale dell'Unione Europea degli elementi che con un po' di sforzo e di volontà politica non irrilevante ma nemmeno insormontabile potrebbero portare a prendere delle decisioni di politica estera più visibili di quelle che normalmente sono e dopodiché alla fine bisogna avere anche il coraggio di guardare la tigre negli occhi senza pensare agli occhi di tigre guardare quelli della tigre vera e lì il punto è questo il trattato europeo attuale sostanzialmente non si presta ad avere e portare avanti insieme uno degli elementi chiave di una comunanza di interessi fra stati che è proprio la politica estera con il corollario come diceva Emma Bonino della politica di difesa non si presta e allora a questo punto ecco insomma escludere in perenne che si possa mettere mano al testo dei trattati e anche lì neanche provarci non andare nemmeno a immaginare se e quanti dei 27 sarebbero disposti ad entrare in un qualche cosa che metta la politica estera e la politica difesa realmente in comune questo anche secondo me è un errore di prospettiva non vorranno tutti probabilmente anche se poi bisogna verificare alla prova dei fatti quanti veramente vorrebbero chiamarsi fuori se la questione fosse completamente posta ma quelli che potrebbero starci secondo me non sarebbero pochi non sarebbero indifferenti e francamente dubito che un governo italiano quale che esso sia si chiamerebbe fuori da una prospettiva di questo tipo bene abbiamo concluso il nostro tempo ma prima di salutarvi voglio chiedere a Emma Bonino al di fuori dalla politica estera ma più complessivamente un giudizio se vuoi un voto al discorso programmatico di Meloni di questa mattina come l'hai trovato? l'ho trovato una compilazione puntuale di tutto quello che lei ha detto in campagna elettorale che piaccia poi o non piaccia ai suoi alleati questo è un altro discorso però anche vago perché su tutte le cose che lei ha annunciato i tempi non ci sono lei ha detto devo fare queste cose d'urgenza il resto verrà dopo verrà dopo dipende a me quello che ha spaventato perché mi pare veramente una prova di incapacità è l'idea di tornando sugli immigrati grazie a Salvini e grazie che ci sono c'è una barca di 300 immigrati a spazio nel Mediterraneo e nessuno la vuole quindi la lite sulle deleghe del mare che sta portando avanti Salvini è una cosa seria per lui ovviamente ma l'idea di avere degli hot spot di triage diciamo in terra librica è ancora più surreale chi dovrebbe fare sto triage le milizie libiche oppure funzionari europei debbitamente protetti però perché nessuno manda lì per essere rapinato rapito sequestrato con tutto quello che succede quindi su alcuni temi questo perché lo conosco meglio di altri è un certo grado di immaturità diciamo niente che ti abbia colpito positivamente no mi ha colpito di nuovo negativamente l'esclusione anche solo di un riferimento a qualunque diritto civile o politico che necessitano in questo paese bene grazie a Emma Bonino a Enzo Movero Milanesi Andrea Bonanni di essere stati con noi ci vediamo domani sempre alle 17.30 qui nella War Room grazie arrivederci ciao Andrea ciao